Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Showsha, siamo tornati con il nostro Alexios e la sua aquila Se avessi detto con Alexios e il suo uccello sarebbe stato un po' fraintendibile Ragazzi siamo ad Atene, dobbiamo tornare da Socrate e questa puntata inizia un po' diversamente da come era terminata l'ultima puntata Perché poi era troppo lunga, ma vi lascio, vi metto un pezzettino del concilio dei, insomma, dei super cavalieri Che hanno creato questa opposizione a Cleone, quindi vi faccio vedere come avevo terminato, come sarebbe dovuto terminare Lasciatemi in pace per favore Quindi ragazzi, io mentre mi nascondo tra le fratte, insomma, vi spiego quello che ho fatto, poi in vostro senso Ho fatto queste missioni che vi ho mostrato, erano le solite fai questo, fai quello per me Praticamente sono servite a screditare Cleone agli occhi della gente di Atene Perché sostanzialmente Cleone, ragazzi, ha preso il potere dopo che Pericle, insomma, non c'è più, non posso entrare qua? Mi rompete le scatole se passo? No E però ragazzi l'ha presa col populismo, no? Dicendo, oh, perché ormai dobbiamo combattere, dobbiamo fare quello, dobbiamo fare quell'altro Bene, insomma, il popolo, insomma, gli ha creduto, lo ha seguito Ma noi ragazzi, tramite lo scredito proprio, ragazzi, la calugna, siamo riusciti a riprendercelo E adesso dobbiamo andarlo a fermare perché sta avanzando verso Militene Socrates Allora, che facciamo? L'opera è stata un grande successo, come previsto Grazie allo spettacolo e alla prova che avete esibito alla Pnice, Cleone ha perso molta popolarità E ora è diretto ad Anfipoli, nel tentativo di redimersi Alexios! Brasida mi manda a cercarti, è vivo, e sta bene Dov'è lui ora? Anfipoli si prepara a combattere Se lo raggiungi prima di me, digli che sto arrivando Che cosa hai intenzione di fare? Eh, ragazzi, che cosa abbiamo intenzione di fare? Cleone è un membro della setta, mentre Brasida ero quasi sicuro che non fosse morto Perché, cioè, Deimos Cassandra l'ha colpito malissimo Stava per dargli il colpo di grazia, ma siamo intervenuti Io voglio uccidere Cleone Io, raga, Brasida, qualsiasi cosa che ci ha chiesto di fare non l'abbiamo fatta Cleone muore adesso, è la nostra possibilità Il piano è già in moto Nessuno dovrebbe morire prematuramente Nemmeno Cleone È esattamente il genere di persona che deve morire Non tutti coloro che vivono meritano di invecchiare, Socrate E sei tu a decidere chi lo merita? Stavolta sì Allora, buon viaggio Beh, pensavo, ragazzi, che tutti saremmo andati, avremmo remato nella stessa direzione Vabbè, che sta a fa' cosa? Alcibiere Vabbè, allora niente, ragazzi Insieme insorgeremo Vediamo qual è la nostra missione parla con Brasida ad Anfipoli Allora, dovete sapere che mi sono andato a documentare E effettivamente c'è stata la rivolta di Militene, no? Dove si sta rivolgendo Cleone Rivolgendo, vabbè, sta andando lì E pensate, ragazzi, che lui, storicamente, aveva proposto di fare questo Aveva proposto di, praticamente, uccidere tutti gli uomini, tutti i maschi del territorio E in più doveva schiavizzare le donne e i bambini di quella città Cioè, pensate quanto stava fuori Cleone E poi, ovviamente, ragazzi, viene visto come un despota incredibile Però, fortunatamente ad Atene c'era la democrazia Eeeh, vabbè Guarda dove sta, ragazzi Ragazzi, sono arrivato, siamo in Macedonia L'ascesa di un impero Eh sì, perché poi dopo, vabbè Bisognerebbe raccontare tutta la storia Va anche raccontato in Assassin's Creed Origins Insomma, tutta la storia di Alessandro Magno Guarda, ragazzi, ma quante cose vi racconto Quanto è bello fa ste, ste storie, un po' E ecco Brasida, che non muore mai Brasida, non muore mai E si ne va subito, subito a lottare Poi, poi sincronizza anche la mappa Dimmi Brasida, sei qui Eh, non grazie a te Ho saputo di Pino Stai bene? Ne ho passate di peggio Ora abbiamo problemi più grandi Allora Brasida Io non Ti vorrei aiutare Perché sei un giusto Però io Faccio altre scelte Che ti è successo dopo Pino? Gli spartani rimasti mi hanno trovato E mi hanno dato il tempo per riprendermi Ma la tua gamba Sei sparito dalla battaglia Mi hanno catturato E portato ad Atene per un interrogatorio Con Deimos e Cleone Non ti hanno ucciso Ci hanno provato Oh, non ci crede? Così Cleone ad Anfipoli Da qualche parte È armato, pare Oggi metterà in gioco la sua vita Vuole diventare un eroe Gli Atenesi non lo rispettano più Dopo quello che ha fatto È la nostra occasione, Brasida Oggi uccideremo Cleone Se non lo farai tu Lo farò io Mi stai nascondendo qualcosa? Sono qui per Cleone Limitiamoci a questo Credevo che fossimo amici Non sei chi credevo Sei cresciuto come uno spartano Dovresti conoscere la lealtà Beh, ma io ragazzi Sostanzialmente la conosco Ma io capisco pure lui Perché due volte che ci ha chiesto una cosa Due volte che non l'abbiamo fatta Devo fur difendermi Sono qui, no? Combattiamo la stessa battaglia Non l'hai ancora dimostrato Allora lascia che lo faccia Stiamo perdendo tempo Atene riceve rinforzi Ora dobbiamo attaccare Andiamo Malaka Non ci vuole dire perché lui sta con Cleone Che succede? Oggi daremo tutto ciò che abbiamo Ah, ok Scortiamo Brasida fino al campo di battaglia No Ci fai un discorso epico prima di lottare? Vi avevo detto ragazzi Che la storia di Cleone e Brasida Si Insomma, vanno a braccetto Adesso non mi ricordo bene le sfumature Perché sinceramente Aspetta, no, no Usiamo sta arma ragazzi Che L'abbiamo sbloccata Cioè mi sembra Un peccato non utilizzarla, no? Guarda quanto tolgo, mamma mia Vabbè, facciamoli buoni ragazzi Su Niente di difficile Ormai Ho A parte che ragazzi Sono a livello 41 Mi sa Guardate qua lo spezza scudo Quanto è diventato potente A livello massimo Io ragazzi Ormai ho Ho quasi tutto Aspetta un attimo Che me dai Che me regali Non male Non male Sono a livello 41 Mi pare che il level cap È al 50 Quindi ragazzi Siamo quasi arrivati Al massimo dei livelli È un bene Non lo so Fatemi sapere secondo voi Se è una cosa giusta o sbagliata Che Aia Qua sorella Quella adeniese Che Che insomma Il gioco ha autolivelli Il tutto Cioè nel senso Questi sono a livello 41 Se noi adesso torniamo a Cefalonia Che erano a livello 1 2 Così Sanno di nuovo A livello 41 Cioè Voi mi direte Vabbè Perché devono essere Allo stesso tuo livello Sì Però come me lo giustifichi A parte È un gioco di ruolo Mike Eh lo so che è un gioco di ruolo Però come Eh Addie Cacciatore d'Italia Che rompi i coglioni Questo col ghepardo è arrivato Ma che sei Il giaguaro Il giaguaro De trastevere Vabbè Io gli faccio male Maccendo pure Una spada Maccendo una spada Non si può sentire Ma non significa niente In realtà Maccendo una miccia Beh basta Fammolo fuori Perché alla tempina Ragazzi Io Io salgo di livello E È la mia odissea E ci sta No Cioè Lo vedete Perché Salgo di livello Mentre loro Cioè Perché A Cefaloniamo C'è un livello 41 Non è Logico Ragazzi Codro Labbra cucite Infatti Manco niente Di interessante Mi hai dato Guarda Ah sì La taga Dell'assassino Ma tanto Non le uso Vabbè Unisciti Alla battaglia Contro gli Ateniesi Sì però ragazzi Posso farlo di giorno Perché con sta pioggia Mezzo nuvoloso Oh Sta a piove Da tre giorni Qua ma che è Guarda Continua a piove Ha smesso Però lo voglio fare di giorno Pure perché di giorno Ragazzi Posso fare delle copertine Un po' più catchy Mi piace Comunque Ecco Una cosa che Ragazzi Mi ci impegno tantissimo Sono le copertine Mi piace proprio Mettermi lì A farle A trovare l'immagine giusta Poi magari uno Non manco ci fa caso Sono sicuro Perché quando Poi una serie Uno mette Mi piace il gioco Non è che sta a pensare A queste sfumature Però per me Sono importanti Che è successo Che è successo Esgheri Niente ragazzi Ha scelto lui Il clima Benissimo Tu levati subito Questo scudo E celsior Sempre stessa tattica Ragazzi Non ce ne frega niente Secondo me sì dai A parte che no Ce ne possiamo anche fregare Perché Quando è la storia Bene o male Non ci da mai I punti di esperienza Alla fine Quindi Seppure ne ammazziamo 2000 o nessuno Non è niente Quindi mi concentrerò Sui campioni Mi sono fatto Una build Troppo ignorante Poco cacciatore Perché ho sbloccato Poche abilità da cacciatore Ma quanto Sono forte come guerriero E anche come assassino Ho maxato Quello che andava maxato Va bene Andiamoci a prendere Un capitano Ancora C'ha una spada particolare Lei ragazzi L'avete notato La sua bracia Maglia d'arresta Volete la guerra Nooo Bruttissimo Prendi proprio Tutto sul personale Oh Merda Oddio Ragazzi Ma che sta succedendo Oh mio dio No ragazzi Non ci posso credere Non puoi fuggire Uccidi Cleone Però è rimasta lì Deimos Non è morta Mi sa Ma cosa cazzo Lo sta succedendo Uccidiamo Cleone Come è rimasto lì Che sta a fare Sta a pregare Cioè perché gli ha tirato Una freccia Sta dalla parte sua Ma questo è impazzito Posso spararli Non è la tua battaglia Alesios Purtroppo per te Lo è Non è troppo tardi Vuoi ancora unirti a noi Non siamo ad Atene Non te la caverai con le parole Ma cosa sta succedendo Tutto questo è colpa tua Via L'hai voluto tu Cleone Puoi incolpare solo te stesso Vabbè raga Famolo fuori Cioè Ma senza senso Questa mossa Me la deve spiegare Veramente bene È vero che noi L'abbiamo L'abbiamo come posso dire Screditato Sì è Cleone Il semplice Il sempliciotto Ma che cazzo L'ha fatto Alexios Andiamo Mostra pietà L'hai messa contro di noi Mia sorella Abbiamo allevato noi Deimos L'abbiamo resa forte Inarrestabile L'avete trasformata In un mostro Allora combattete Metti al suo fianco Istruiscila Avrai di nuovo La tua Deimos Il suo nome è Cassandra Ti prego Il mondo è diviso Alexios E noi lo uniremo Sta zitto Cazzo Sono disarmato Abbi pietà Ti ucciderò con misericordia O ti ucciderò lentamente E in ogni caso Ragazzi Lo uccideremo Con misericordia Tu non meriti Una morte rapida Ma quando Varcherai le porte Dell'aria Avrai ciò che ti spetta No Inginocchiati Tu non capisci Nessuno mi dimenticherà Cleone di Atene Sarò ricordato Sei già stato dimenticato Pesante ragazzi Oddio che è successo Merina vorrà sapere Della morte di Cleone Cleone è il semplice Ragazzi Dovevo affrontare subito Mi dispiace Mi dispiace pure a me ragazzi Però Prasi ha fatto una finaccia Insieme insorgeremo Che vi ricordo Era una fine legata A quella di Cleone E ce l'hanno data così Ma adesso Deimos Andiamo a vedere Forse Qualcuno di voi Avrà Sperato che Insomma In una morte lenta E forse Sarebbe stata anche figa Guarda quello che corre La riconquista di Atene Abbiamo completato Un altro capitolo Ragazzi Siamo vicini Alla fine Io credo No Ho lisciato Benissimo Vabbè ragazzi Dobbiamo tornare da Mirin E spiegargli un po' Che l'ha caduto No Questo c'è a livello 40 Ragazzi Lo faccio fuori Solo per prendermi Un po' di soldini E ci siamo ragazzi Siamo tornati a Sparta Dove tutto Ebbe inizio E' il nome della missione Quindi Ci fa già capire Che dovremo affrontare Il nostro passato Ma in che modo Ho letto finalmente Alcuni Diciamo la prima fase Delle votazioni Perché poi abbiamo messo Il sondaggione Ma mi ero dimenticato Vabbè ragazzi Capita perché E' tutto live Questa serie E' tutta live Comunque è un plebiscito Almeno nel momento In cui sto registrando Insomma Volete quasi tutti Che io salvi Deimos Quindi Cassandra Non lo sarei mai scattato Perché io avrei fatto Forse in contrario Però Ragazzi Ricordatevi sempre Che in base a come Evolverà la storia Io prenderò in considerazione Ovviamente La vostra scelta Ma poi vediamo Come va avanti È passato così tanto tempo Brasile è morto No Eh si Deimos l'ha ucciso in battaglia E che ne è stato Di mia figlia No Deimos vive Ragazzi Cleone ha colpito Deimos alla schiena Con una freccia La ferita non sembrava letale Forse è ancora viva Malaca Cleone Lo ucciderò Con le mie stesse mani E' tardi madre Ho già spedito Quel bastardo Nell'ustige La mia famiglia Mi resti solamente tu Madre C'è una cosa Che devo fare Devo andare al monte Daigeto Dove tutto ha avuto inizio Ho passato una vita intera Combattere e fuggire Fuggire dal passato Combattere per dimenticare Non intendo farlo più E il mio cuore Andò in pezzi Su quella montagna Devo lasciarmi Quella notte alle spalle Una volta per tutte Vengo con te Così la buttamo giù Che poi ragazzi Non è vero Che gli siamo rimasti Solo noi Perché Tecnicamente Se ci pensate bene Sono tutti vivi Perché Vabbè Pitagoro è vivo Però vabbè Non lo consideriamo Ma Nicolau è vivo Pure se era il padre adottivo Cioè ci avrà passato Bei momenti Statizia No Per Cioè a me Io mi ricordo Eramo persone felici Quando eravamo tutti insieme Comunque noi siamo vivi Cassandra è viva Allora Che hai perso tutto No Chi è quello mo È qui che cambiò tutto È come se non me ne fossi mai andato No regà no No regà no No regà no Fermi Tutti È lei Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Cassandra Ai confini del mondo Una madre che urla il nome del proprio figlio Toccante Cassandra Ti prego Pronunci quel nome come se significasse qualcosa È il nome che io e tuo padre ti abbiamo dato Prima o dopo che mi portaste su questa montagna a morire È stata la setta Io cerchai di salvarti Feci di tutto I sacerdoti mi dissero che eri morta E a me dissero che tu mi abbandonasti Cassandra Vieni da me Siamo la tua famiglia Possiamo tornare a casa Famiglia Casa La mia spada è la mia famiglia Il campo di battaglia è la mia casa Te l'ho detto madre È tardi per salvarla Tardi per salvarla? È questo che hai detto a tua madre? Perché non le hai detto la verità? E quale sarebbe la verità? Che io sono la prescelta Io sono la predestinata Io porterò ordine in questo mondo E tu Non sei altro Che un mercenario Con una lanciarotta Tecnicamente quella lanciarotta Apparteneva a tuo nonno Leonida E ragazzi È la prescelta in cosa? Che se Poi non lo so Pitagora che ne pensa Però La setta ti sta usando Non hai bisogno della setta Questa Tu non hai alcun destino Sei solo una pedina Nelle mani della setta Mi rallegra sentirtelo dire Fin da quando ti ho incontrato Ho cercato di capire Cosa sei per me Sei un parassita Che minaccia di soffocare E distruggere Tutto ciò che ho creato E sai qual è il modo migliore Per estirpare un parassita Eliminare l'origine Cassandra Quando ero piccola Trovai un cucciolo di leone Era intrappolato Un mio amico Cercò di liberarlo Fu allora Che sentii Il rugito della madre Restai a guardare Mentre la leonessa Faceva a pezzi Il mio amico Una personcina a modo Nel mondo animale Una famiglia Protegge il suo piccolo Io ti volevo bene E te ne voglio ancora La persona che amavi È morta E il mio destino è chiaro Non permetterò Che mi ostacoli Allora ragazzi Siamo arrivati A quel momento Morirai su questa montagna O non voglio battermi Io tengo in considerazione Quello che mi avete detto Però Voglio sapere la vostra Adesso sotto nei commenti Il gioco ci sta spingendo Molto Almeno a me Mi sta dando questa sensazione A farmi credere Che comunque Non c'è nessuna speranza Di riportarla indietro Cioè sentite che cosa dice Lei ha molto rancore Verso comunque Delle persone Che non hanno fatto niente Per ostacolare Quello che diceva La pizia E comunque Ce l'hanno portata Su quella montagna Ora ci possiamo inventare tutto Il risentimento suo Nasce dal fatto Che Ha vissuto una vita Veramente Bruta Per colpa loro Perché l'hanno abbandonata Però Io continuo Vediamo che succede Cassandra Ascoltami Tu Sei mia sorella Ho cercato Di proteggerti una volta E ho fallito Ma non fallirò Di nuovo Questa apparteneva a nostro nonno una volta Ora sei a casa Ho fatto Ho fatto Cose terribili Come tutti noi Cassandra Io Lo so Alexios Aspetta Grazie Non so perché Ma io non gli credo Ma forse sì Allora tutto è bene Ciò che finisce bene Non so perché ragazzi Ma ho pensato che Adesso gli sfila L'arma E la uccide Non so Boh Glorz Versi Generale Grazie a te Oh, dove tutto è Vinizio Guardate quanta roba Abbiamo sbloccato tutta la Eh, mamma Abbiamo sbloccato tutto l'armamentario Di... di cosa? Di Deimos Che figata Ragazzi, che figata Questa è stata una puntata assurda Il membro della setta è stato sconfitto Perché non l'abbiamo uccisa Allora ragazzi Prima di salutarci Voglio fare una scommessa con voi Cioè, più che altro voglio fare una sfida Sentite questa Ora noi abbiamo scelto di salvarla Come mi avete chiesto voi Vi sfido Se questo video raggiungerà i 20.000 mi piace Vi prometto che è finita la serie Perché sennò dopo ci crea confusione Che ne pensate se è finita la serie Ricarico il salvataggio E scopriamo che cosa sarebbe successo Se invece di salvarla Avessimo scelto di combatterla Cioè, quindi di ucciderla Non lo so poi se la uccide Però insomma Se la decisione invece di essere buoni Facciamo la decisione cattiva Tra virgolette Che ne dite? Volete scoprirlo? Però Fatemi sapere Insomma Votate Votate insomma Lasciate tanti mi piace 20 che mi piace Ve lo faccio Ve lo giuro Comunque Qual è la nostra prossima mossa adesso? La nostra autistica è questa Ogni grande storia Termina là dove è iniziata Alexios aveva servito bene il suo popolo E ora è raggiunto il momento di tornare da loro Penso che ragazzi Si concluderà con Come si è conclusa la guerra del Peloponnese Ovvero Ditemi la vostra Io vi do appuntamenti ai prossimi video Un saluto a tutti Da Maxxosha Alla prossima Ciao ragazzi Ciao